Obiettivo di questo corso di quattro ore è quello di approfondire il senso di una classe inclusiva andando ad esplorare concetti come la teoria dei sistemi applicata alla classe, le caratteristiche di una classe complessa e quelli che sono alcuni dei modelli di gestione della classe. Quello che faremo insieme sarà riflettere sulle difficoltà delle proprie classi e su quelle che sono le strategie che possono essere d'aiuto per favorire dei processi di inclusione. Grazie.